Sul tema della movida del disagio giovanile ora c'è un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta a promuovere tutta una serie di iniziative per i giovani ma anche di sicurezza per controlli e decoro del centro. L'iniziativa di cominciare ad affrontare il discorso in maniera seria e organica è stata del gruppo consigliare del passo possibile ma alla fine è passato solo l'ordine del giorno della maggioranza e non quello dell'opposizione suscitando non poche polemiche. I reati che hanno come protagonisti giovani sono in aumento. L'Aquila sopporta da tempo il fenomeno delle baby gang sebbene le forze dell'ordine a questo abbiano già sferrato un duro colpo. Episodi di vandalismo e violenza in centro, furti e l'ultima rapina a mano armata. Ma il fenomeno non riguarda soltanto il centro, pure le periferie, i progetti case e secondo l'opposizione il documento della maggioranza non contiene input importanti che loro invece avevano inserito. Noi abbiamo voluto denunciare con il nostro ordine del giorno proposto dal passo possibile ma condiviso con tutta l'opposizione quello che è l'indifferenza e soprattutto il silenzio che c'è in città su alcune tematiche importanti che chiaramente si parla di Movida ma anche di altre problematiche importanti come il disagio giovanile, la regolamentazione degli spazi, anche il rispetto delle regole e non in ultimo la sicurezza dei cittadini. Proprio sulla sicurezza dei cittadini per esempio è palese come non si tocchi volutamente a questo punto l'argomento su ciò che è successo, su questa escalation ed episodi che sono accaduti negli ultimi mesi non è un problema solo di centro storico dove capitano questi episodi finali ma il degrado vero e proprio è nelle periferie, nei map, nei progetti case, in quelle cosiddette zoove morte dove appunto bisognerebbe intervenire. Differentemente da quelli che erano stati i buoni propositi della Commissione a margine della quale volevamo ovviamente creare un documento unitario anche su input della maggioranza stessa. Poi c'è stato questo cortocircuito tutto interno alla maggioranza e che evidentemente ha portato a creare un altro ordine del giorno che lo dico con molta chiarezza è molto distante da quelle che sono le linee, i buoni propositi che c'erano nel nostro. È evidentemente un ordine del giorno che è stato forzatamente introdotto solo col fine di bocciare il nostro. Grazie a tutti.